Salve operatori, qui ci sono Mute e Pulse. Volevamo fare questo video già da un po' di tempo, però abbiamo aspettato il momento giusto. Il momento giusto è stato il raggiungimento dei 5.000 follower su Facebook e dei 2.500 iscritti sul canale. Sì, questi sono traguardi che ci danno la forza di continuare e di credere davvero in questo progetto, perché vediamo che il nostro lavoro viene apprezzato da chi ci segue. Per questo abbiamo deciso di portare tante novità sul canale e sulla pagina Facebook, che vi mostreremo a breve. Sì, e tra queste infatti c'è proprio l'intro. Riguardo le novità, a breve inizierà la season 2 e conosciamo almeno i nomi in codice dei nuovi operatori, che sono Keldrop e Dazzler. Sì, sono nomi in codice perché la Ubisoft è solita mettere questi nomi all'interno dei file del gioco e per poi cambiarli in realtà nella missione finale, però ci danno un indizio su quelli che saranno i loro gadget. La data indicativa dell'uscita di questi operatori la potrete trovare sul canale dei Brains & Games, sul Rainbow Six TG che curano insieme a noi. Sì, Luna e Frost infatti hanno fatto un video con le nostre indicazioni e ve lo linkiamo, non lo so, qui, qui, proveremo in descrizione sicuramente. Un'altra novità è la nostra presenza domani al Comic-Con. Sì, domani, primo maggio 2017, saremo al Comic-Con e per trovarci, diciamo, abbiamo chiesto un favore a un nostro amico. Sì, un amico davvero speciale, che ha portato un gadget davvero speciale. Sledger, passami il martello. Eccolo qua, ragazzi, il martello di Sledger. Abbiamo davvero sudato per averlo. Ci vediamo al Comic-Con, ragazzi, ciao!